Sicuramente è una partita semplice, specie nel secondo tempo, è venuta poi meno la condizione atletica, è mancata la lucidità, specie al centrocampo. Sì, perché nel secondo tempo ci siamo allungati un po', c'era pure caldo, veniamo da una partita e abbiamo recuperato solo due giorni. Vabbè anche loro, però oggi abbiamo trovato difficoltà per il caldo e poi perché ci siamo allungati troppo nel secondo tempo. Cos'è mancato per non ottenere questi tre punti? Secondo me è un po' di cazziveria al secondo tempo, ci siamo allungati, dobbiamo restare più corti e più uniti. Abbiamo rischiato pure di perderla, però siamo stati bravi, meglio non perdere così. Lei è un punto guadagnato o sono due punti persi? Secondo me è un punto guadagnato contro una buona squadra, una grande squadra. Pensiamo già alla prossima e pensiamo sempre a fare punti e non perdere. Un po' stanno non perdere.